Il sindaco di Valle Crosia, Armando Biasi, parla del progetto di riqualificazione dell'ex mercato dei fiori a Valle Crosia. Qua siamo in una zona simbolica che rappresenta il nostro mandato amministrativo. Appena eletti ci siamo resi conto che se non ci dotavamo di progettualità, che potesse poi essere finanziata, zone grandi come queste, in uno stato ereditato di difficoltà urbanistica, di difficoltà di arredo urbano, abbiamo queste due ali di cemento armato che rappresentano il vecchio municipio ormai demolito perché era ormai pericoloso, identificano quanto è importante il ruolo della programmazione amministrativa e spiego perché. Sono tre fattori importanti. Il primo, nel nostro bilancio comunale, per chi ha un po' di esperienza, non ci sono somme che permettono una riqualificazione per un'area così vasta. Cosa abbiamo fatto? Con questo bando, che si chiama Bando di Rigenerazione Urbana Nazionale, era un bando che metteva insieme i comuni sotto i 15 mila abitanti, che però la sommatoria di essi doveva sorpassare tale cifra. Abbiamo insieme al Comune di Camporosso, qua a fianco, insieme al Comune di Ospedaletti, insieme al Comune di Solabona, lavorato su un progetto di riqualificazione, nel nostro caso riqualificazione di piazza dell'ex mercato e riqualificazione di piazza d'armi. Il risultato, contentissimi, per noi sono 2 milioni e 400 mila euro, di riuscire a ottenere da questo bando nazionale una graduatoria che ci permettesse di essere poi finanziati. La gioia che vi comunico è che per questo progetto dell'intera riqualificazione, che poi a progetto esecutivo ne faremo anche un video specifico, ci permette di essere primi in Regione Liguria. Quindi adesso lo Stato, attraverso la scrematura di quello che sono le graduatorie, sta andando a valorizzare tutte le regioni italiane e noi, col nostro bando dei quattro comuni, siamo primi in Regione Liguria. Quindi sicuramente vi comunico che nella prosecuzione dell'attività amministrativa, per questo è importante sostenere la continuità del mio mandato amministrativo, anche quest'area sarà completamente riqualificata grazie a questo bando. Quindi, come ho sempre detto, fatti e non parole. Poi, secondo aspetto alle mie spalle, vedete questa casa vecchissima, vetusta, così da sempre. Nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, i proprietari hanno presentato un progetto di edilizia privata ai sensi della legge 49.2009, che è il piano casa, che ne prevede la demolizione e lo spostamento in altro sito, perché la legge prevede che i volumi esistenti possono essere trasportati da altre parti attraverso pratiche di edilizia privata. Non ultimo, in fregio alla Via Aurelia, il nostro CIV, che grazie anche a un impegno di coordinamento del sottoscritto dell'assessore Biancheri, ha ottenuto circa 200.000 euro di finanziamenti per sviluppare progetti di crescita turistica e promozionale, proprio laddove c'è quel battuto di cemento, che molti cittadini mi hanno chiesto, Sindaco, come mai quel battuto è situato così recintato? Perché lì sopra il CIV realizzerà un chiosco nuovo, moderno, che sarà il punto turistico e di ricezione delle istanze di tutti coloro che vengono a vivere le esperienze turistico-commerciali della città. Quindi è chiaro che in altri luoghi, come ad esempio Via Don Bosco, la Paseggiata Mare, le scuole, la biblioteca, i bandi erano usciti prima, questo è un bando di 5 mesi fa, però c'è da dire che se noi ci dotiamo di progetti di programmazione, fondamentalmente arriviamo anche per il prossimo mandato ad avere i soldi per riqualificare questa zona. Quindi sicuramente era opportuno da parte mia comunicare che anche questo stato fattiscente che tutti quanti osserviamo non ci faceva piacere, ma dovevamo trovare i soldi per poter mettere a posto tutta quest'area. Ci siamo riusciti, siamo contenti e ve lo comunichiamo.